Esatto, proprio perché non è una novità, non vogliamo trovarci ad affrontare le emergenze senza averne prima parlato, discusso e pianificato con la protezione civile, con le prefetture, con le province. Noi stiamo stanziando i fondi sul bilancio regionale, anche se, sottolineo, non sarebbe un dovere della Regione stanziare questi fondi perché non è una sua competenza diretta, ma siccome le province sono state di fatto spogliate, non solo di competenze ma anche delle risorse per le poche residue e competenze che gli rimangono, la Regione si farà carico di stabilire un contingente di fondi che possono aiutare le province a tenere sgombere le strade e intervenire in caso di forti nevicate per garantire la viabilità e la sicurezza.